Book Club, episodio di dicembre. A dominare le mie letture questo mese c'è stato L'uccello che girava le vidi del mondo di Murakami, un romanzo di quasi 900 pagine che mi ha trascinata in un mondo magico e surreale dal quale non riuscivo più ad uscire. Un libro introspettivo ma avvincente, bellissimo. Ho poi letto Essentialism di Greg McEwan, un libro di crescita personale che aiuta chi si sente sempre con l'acqua alla gola ad individuare le cose essenziali della propria vita e avere successo. Mi è piaciuto, ne ho tratti spunti interessanti. Esiste anche in italiano con il titolo Dritto al Sodo. Non ho altri libri da aggiungere perché per il resto del mese ho passato le mie serate in buona compagnia. E voi che libri avete letto di recente? Vi aspetto nei commenti.